ciao a tutti oggi ci troviamo nella mia aula di scienze e vi presento la mia collezione calcolatrici meccaniche allora cosa sono le calcolatrici meccaniche le calcolatrici meccaniche sono come dice il nome degli oggetti per calcolare che funzionano meccanicamente con quindi ruote dentate queste oggi sono molto poco conosciute anche se erano molto diffuse fino ai anni 70 quando poi sono state introdotte le calcolatrici digitali e quindi sono andate in disuso però per oltre 100 anni sono state estremamente è stato l'unico modo principale per fare conti e che nascono come concetto addirittura già nel 1680 con la ruota di leibniz o il cilindro di leibniz cosiddetto che poi vedremo che il meccanismo principale secondo cui tutte queste funzionano perché ne ho così tante perché io lavoro in una scuola steiner waldorf dove non si usa la calcolatrice nelle classi medie a matematica le calcolatrici digitali ma malgrado ciò si fanno comunque dei calcoli di una certa complessità che farli fare sempre a mano diventa anche un po una perdita di tempo di conseguenza ho deciso quest'anno di provare a introdurre queste calcolatrici per farli fare quei calcoli e quello che mi sono reso conto è che in realtà servono tantissimo per imparare bene le proprietà dei numeri perché non sono scontate non basta inserire un risultato è un valore far la somma lo sottrazione a divisione e poi sia il risultato ma bisogna ancora pensare bisogna pensare parecchio tutte queste io le ho comprate su aste di seconda mano aste online quasi nessuna di queste funzionava e ho dovuto quindi metterle tutte a posto per rimetterle in funzione comunque non ce n'era di fatto nessuna di rotta la maggior parte avevano semplicemente bisogno di essere un po pulite da vecchi oli che le avevano rese che le avevano bloccate perché erano diventate gomme quindi pulite riogliate e queste calcolatrici funzionano ecco in alcuni casi diciamo il problema più grosso che ho incontrato sono stati lavori precedentemente fatti per smontarle riassemblarle e poi riassemblate sbagliate e quindi qualcosa non funzionava ma era perché erano state assemblate sbagliate questo non è sempre facile a scoprire perché bisogna capire esattamente come funziona il meccanismo bisogna pensare qualcosa si trova al giorno d'oggi come tutorial per capire se una cosa funziona o no però non è sempre evidente comunque come detto io le ho comprate le ho ripulite le ho ogliate e adesso funzionano tutte e le uso in classe con i ragazzi per fare lezione di matematico diciamo quando c'è bisogno di fare certi tipi di calcoli un po complessi io do queste calcolatrici ai ragazzi che stanno si sono appassionati a questa cosa farò vedere qualche immagine sullo sfondo sono appassionati si divertono tantissimo e sono addirittura affezionati ognuno ormai alla sua non posso toglierla devo sempre ridare allo stesso la sua purtroppo ogni tanto vanno in conflitto perché alcuni sono affassionati alle stesse comunque è secondo me un suggerimento per chi insegna matematica soprattutto nella scuola steiner ma non solo può essere un'idea di introdurre questi oggetti nelle scuole medie per fare matematica perché queste calcolatrici comunque permettono di fare somme sottrazioni moltiplicazioni divisioni e tutta una serie di queste anche radici quadrate quindi siamo già nell'ambito di calcoli di una certa complessità e che fare a mano non è evidente allora giusto per fare una presentazione generale abbiamo diverse tipologie queste prime quattro che vedete sono tutte basate sul modello della odner che è la prima che ha fatto questo tipo di modello intorno al 1880 questa è un po diversa è una aman manus ma questa sembra simile alle altre qua che abbiamo visto ma non è funziona con un principio diverso comunque appare abbastanza simile poi abbiamo queste con tanti tasti che sono le monroe che è una marca americana qui abbiamo questa nera grossa sembra simile al monroe ma in realtà dentro è un po diversa come meccanismo e comunque è una marca tedesca poi abbiamo queste più compatte a blocco unico che sono le facit un'altra marca svedese di cui come tipologia è simile questa precisa che è una svizzera poi abbiamo un contometro abbiamo una dietro abbiamo una curta e poi sul banco abbiamo due marchand che sono il corrispettivo simile come funzionamento alle monroe ma queste sono elettromeccaniche vuol dire che invece di dover usare la mano per ruotare la manovella c'è un motore elettrico e poi abbiamo ancora una precisa che è un'altra tipologia adesso le vedremo un po più nel dettaglio comunque questa è una tipologia di calcolatrice che fondamentalmente per contabili questa stampa non a par da nessuna parte il numero però stampa allora io penso che sia importante portare questa cosa ai ragazzi perché è un pezzo di storia matematica che purtroppo oggi è andato perso poche persone sanno che esistono queste macchine lasciamo perdere l'utilizzo che vedremo adesso dettagliatamente nei seguenti video vi farò vedere più o meno ogni tipologia come va usata comunque per cento anni praticamente l'umanità ha fatto conti con queste macchine qua e si sa poco ecco quindi ho pensato che è giusto informare e far una rassegna di queste apparecchiature allora faccio una veloce giro cominciamo con il tipo odner che si chiamano anche calcolatrici con ruote a pioli semplicemente io inserisco qua un valore vedete con queste levette che appare qui in alto scritto quello che ho inserito questo lo chiamerò non so se sono i nomi giusti tecnici comunque li chiamiamo registro di input io giro una volta la manovella e qui mi appare il risultato cioè il risultato semplicemente inserisco questo valore nel registro del risultato ora se inserisco un altro valore 615 per esempio giro un'altra volta e ho già la somma dei due valori se adesso volessi sottrarre qualcosa inserisco un altro valore da sottrarre 338 io giro la manovella nell'altro verso e qua mi appare la sottrazione quindi farò vedere poi nel dettaglio come si fa moltiplicazione divisione e radice quadrata comunque questa è la somma queste altre funzionano in maniera simile qui abbiamo una multoaddo che è semplicemente un'altra marca le odner sono svedesi la multoaddo è anche svedese di origine andiamo alla tipologia che io chiamo della monroe perché proprio il nome della marca marca americana qui è interessante notare l'evoluzione abbiamo questa qui che è dei anni secondo me anni 30 vedete anche i colori fanno ancora l'aspetto di una macchina nobile verde con con quei tasti rossi poi abbiamo questa che è dei anni 40 che è ancora un po su quella linea ma già si vede che l'aspetto è un po meno nobile e poi abbiamo queste dei anni 50 che sono proprio macchine per lavoratori quindi non c'è più la pretesa che siano macchine nobili macchine di lusso perché ora degli anni 50 probabilmente negli uffici ce n'erano decine mentre ancora nei anni 30 erano magari ancora una cosa molto esclusiva diciamo così perché erano anche care comunque in maniera analoga qui inserisco un valore giro il valore mi appare qua inserisco un altro valore giro un'altra volta e qua mi appare la somma dei due valori che ho inserito se ora inserisco un terzo valore e giro la manovella dall'altro lato qui abbiamo il valore precedente meno il valore appena inserito quindi la sottrazione vedete che il principio di fondo di funzionamento è molto simile a quelle altre soltanto la tecnica interna il modo in cui si presenta la macchina è un po diverso in maniera analoga funziona la lindström questa nera andiamo invece nel tipo facit che è anche una marca svedese qui è cambiato un po perché ho soltanto una tastiera per inserire i numeri inserisco i numeri appaiono qua giro una volta i numeri vengono inseriti nel registro di output poi devo azzerare il registro di entrata inserisco il prossimo valore giro un'altra volta e il valore qui appare la somma dei due valori inseriti in maniera analoga se voglio fare una sottrazione inserisco il mio valore da sottrarre giro nel senso opposto e qui abbiamo il risultato della sottrazione quindi queste tre le due facit che sono molto simili ma semplicemente magari di una decade diversa quella più vecchia questa un po più nuova e la precisa funziona nel modo analoga precisa probabilmente la più recente c'è anche un design un po più ergonomico con la manovella che viene più verso l'utente i tasti che sono già di una plastica più anni 50 60 comunque anche lei funziona in maniera larga sentite più silenziosa devo azzerare così inserisco il prossimo valore giro e ottengo la somma poi andiamo al contometro il contometro con ptometer come si chiama è un po di una tipologia diversa questa è la calcolatrice che ancora oggi secondo me sarebbe la più veloce calcolatrice del mondo per fare somme anche questo il progetto risale all'inizio del 1900 l'hanno venduta fino agli anni 70 perché è più veloce perché io qui posso inserire i valori usando più di un dito e qui appaiono subito quando inserisco il prossimo valore io qui ottengo già la somma quindi praticamente usando 10 dita e questo veniva fatto venivano proprio addestrate le persone a usare 10 dita uno poteva essere rapidissimo inserire i valori questo sono ho già subito il risultato di tutte queste cifre che ho inserito senza dover girare nessuna manovella l'unica manovella che c'è che è questa serve in realtà solo per azzerare il registro e dopo posso ricominciare quindi usando 10 dita chi era esperto era rapidissimo è più veloce di una calcolatrice digitale perché comunque con la calcolatrice digitale io devo inserire una cifra per volta poi devo schiacciare il più poi devo inserire il prossimo numero con una cifra per volta qui invece inserisco quattro cifre alla volta anche sei cifre alla volta anche volendo e potenzialmente no otto ecco una per ogni dito il pollice forse è difficile da usare comunque molto molto rapida e ancora fino alla fine malgrado poi sia molto difficile fare sottrazioni ancora più di moltiplicazioni vai abbastanza facile divisioni è un casino però si può fare diciamo per le somme che era quello che interessava soprattutto nell'ambito dell'economia dei tecnici eccetera dei contabili era molto molto rapida poi abbiamo ancora vi faccio vedere la curta questa è la più piccola calcolatrice meccanica mai stata fatta qui io inserisco i miei valori su questi levette qui per far la somma se bisognerebbe avere due mani comunque giro la manovella sopra e qui mi appare quanto ho inserito ora inserisco il mio prossimo numero giro nuovamente e qui mi appare la somma se voglio fare la sottrazione inserisco il numero da sottrarre alzo la leva vedete che appare quella righetta rossa giro sempre verso se nello stesso senso e in questo modo ottengo la sottrazione bene andiamo all'ultimo che che ho qui di quelle manuali è la dietro vedete questo proprio tascabile estremamente fine estremamente pratico da portare con tanto di piccolo contenitore dove tenerlo con la pennina incluse da infilar nel lato io qui inserisco un valore 544 a cui voglio ora sommare 323 e qui ottengo direttamente il risultato 867 se ora voglio fare una sottrazione da questo numero io lo giro vedete qua appare subtraction inserisco il valore da sottrarre 435 e qua ho il risultato 432 che è quel numero precedente meno il numero appena inserito da sottrarre quindi molto facili somme e sottrazioni un po più complesse le moltiplicazioni e quasi impossibili divisioni però per somme era una calcolatricità scavola che non si portava dietro si doveva fare anche somme grosse perché vedete un sacco di cifre quindi far una somma di due numeri a sei cifre è comunque un lavoro farlo a mente con questo apparecchio si poteva fare molto più facilmente senza dover pensare tanto nel senso che bisogna solo fare attenzione a inserire in maniera corretta i numeri bene andiamo per finire a quelle elettromeccaniche queste due sono marchiant una c'è un paio di cifre in più dell'altra vedete questa 368 cifre questa a 6 8 10 cifre qui la cosa diventa automatica io inserisco il mio numero schiaccio più e qui viene inserito inserisco il prossimo numero schiaccio più e viene inserito e c'ho già il risultato voglio sottrarre qualcosa inserisco il numero a sottrarre schiaccio meno e ho fatto la sottrazione interessante è poi le vedremo nel dettaglio comunque interessante invece può essere la moltiplicazione adesso ve la faccio solo vedere poi la vedremo in dettaglio questo devo fare 455 per 34 io faccio per 34 qui appare per quanto moltiplicato questo è il risultato è molto simpatico vedere la divisione che è la più macchinosa oltre alla radice quadrata perché qua viene fatta in automatico io inserisco il numero lo devo inserire una volta schiaccio l'azzeramento del contatore vedremo le ragioni per cui si fanno queste operazioni comunque volevo solo far vedere come fa una divisione per far capire il concetto che si usava una volta di macinare i numeri inserisco il mio divisore schiaccio questo che è il tasto della divisione guardate cosa accade ecco e qui abbiamo adesso il risultato di questa divisione interessante no vedremo poi come si usano e perché deve fare tutti questo lavoro però immaginate una volta entrare in ufficio dove c'erano dieci macchine così che facevano divisioni non era la cosa più tranquilla del mondo andiamo all'ultima che ancora una precisa una marca svizzera questa è solo fatta per fare somme quindi io inserisco il mio valore schiaccio più viene stampato inserisco il mio prossimo valore schiaccio più viene stampato inserisco il mio prossimo lavoro schiaccio più viene stampato inserisco il mio prossimo lavoro eccetera inserisco tutti i valori che voglio a un certo punto voglio il totale schiaccio qui e qui mi viene stampato il totale questa la faccio vedere perché tra l'altro questa non l'ho comprata questa la usavano ancora i miei genitori che sono contabili l'ho trovata a casa quindi è proprio una macchina che è stata utilizzata almeno fino agli anni 80 la faccio vedere perché nello stesso tipo esistevano anche senza il motore elettrico quindi con una manovella che stampava è proprio una calcolatrice per contabili quando devo fare un controllo di cassa o qualcosa del genere io posso fare questa serie di operazioni tutte diciamo per avere una verifica avendo i numeri stampati posso controllare posso spuntare i miei valori per vedere che sia tutto giusto ecco come detto questa è la mia collezione e nei prossimi video farò vedere come funzionano esattamente qual è il principio per fare le operazioni matematiche anche confrontandole con quello che faremo noi manualmente e in più vi faccio anche vedere come sono fatte dentro come funziona il principio diciamo meccanico per fare la somma che sembra una cosa complessa ma in realtà non lo è per nulla queste macchine in sé fanno solo somme sottrazioni ma la cosa interessante è che faccio potendo fare somme sottrazioni nel modo corretto io posso fare moltiplicazioni divisioni e radici quadrate e vedremo esattamente come si fa e vedremo anche come si usano i vari modelli grazie per l'ascolto